Sono rimasto colpito perché evidentemente sta venendo fuori, la gente conosce Lili, conosce me, conosce la nostra vita, ci ama, ci invidia tante volte perché viviamo una vita allegra e felice e di conseguenza ecco il mio amico Bruni, ciao caro, adesso questo, tu ci conosci, ci hai visto in giro, sai che vita facevamo, qual era il nostro, sempre felici, per questo io non riesco a capire, non riesco a capire come quest'uomo sia entrato nella nostra casa, capisci? Io dico ma cosa sei venuto a fare nella nostra casa? Hai spezzato due vite, la sua evidentemente sei morta, sei viva, però hai spezzato la nostra famiglia, signore non lo so, non so cosa dirti, guarda, fate un esame di coscienza, pensaci bene a quello che hai detto, a quello che hai fatto, lei si è fidata di te, si è fidata di te, è venuta a trovare come va a trovare altra gente, tanti amici di lavoro, queste cose qua, di conseguenza fate un esame di coscienza.